Al centro congressi delle Benedettine a Pisa, in occasione dell'Internet Festival, l'Istituto Modartec ha lanciato Inside My Meta, una collezione moda progettata dallo studente Roberto Becai, che guarda la nuova frontiera delle esperienze virtuali come il metaverso, basandosi su ispirazioni dal mondo del gaming, anime e high tech. Questa collezione unisce sia qualcosa di virtuale sia qualcosa di materiale e di tangibile, quindi che saranno ovviamente tutti gli outfit della sua collezione, ma soprattutto questa innovazione che è questa stampa particolare con un inchiostro termosensibile, quindi quando sarà freddo la stampa avrà un colore, con il caldo ne assumerà un altro, per cui la tecnologia applicata sia a quello che forse sarà un domani il nostro futuro e comunque che è una realtà per i giovani della generazione Z e sia qualcosa insomma che è tuttora oggi indossabile. A Internet Festival l'Istituto Modartec ha realizzato una vetrina per gli abiti in 3D di Becai. Protagonisti sono capi di abbigliamento e accessori che vengono presentati in due mondi paralleli, reale e virtuale, una collezione sotto il segno dell'inclusione, della sostenibilità e dell'innovazione responsabile. Vediamo qui allo stand, all'interno dell'Internet Festival, proprio la sfilata virtuale di quest'abito, quindi abbiamo messo insieme il reale con il virtuale, un progetto molto interessante che faremo anche vedere a Milano in occasione della Fashion Graduate e come sappiamo progettare in 3D capi che in qualche maniera non sono ne ancora prodotti ma che danno ben l'idea di come possono venire, insomma sicuramente è un meno spreco di energie e di materiali.